Alessandra Cercuzzi, una nuova edizione di Bike to Shop, andare in Dici a fare la spesa per favorire i negozi. Come sta andando e come è andata la prima edizione? La prima edizione, come sapete, è andata benissimo perché abbiamo avuto parecchi negozi che si sono iscritti e tante persone che hanno partecipato. Sono stati percorsi, che è quello che a noi interessa, 23.000 km e sono stati dati rimborsi per la quasi totalità dello stanziamento messo in pista dal Comune per questa operazione. Speriamo che quest'anno vada ancora meglio e quindi siamo in attesa di vedere quanto si iscriveranno. I prodromi sono buoni perché si sono già iscritti in tanti, speriamo che aderiscano ancora di più. È un modo per favorire i negozi, per spingere le persone ad andare nei negozi vicinato, ma anche per favorire la mobilità sostenibile. Questa è la bici di Alessandra Cercuzzi. Penso che la conoscono tutti perché è abbastanza riconoscibile. Il senso del Bike to Shop si riassume in questo slogan piccolo che però secondo me è interessante. Il cliente in bicicletta non parcheggia, non inquina e ti guarda la vetrina. Detto questo ho detto tutto perché chi può muoversi in bicicletta lascia un posto libero a chi invece viene magari da un altro comune e deve per forza utilizzare la macchina e quindi è un parcheggio occupato in meno. Chi si muove in bicicletta non inquina e ne risentiamo tutti identificamente. Chi si muove in bicicletta ti guarda la vetrina perché ha più tempo muovendosi lentamente, di fermarsi, di guardare, non ha l'assilo del traffico. Insomma per noi commercianti la mobilità in bicicletta o anche pedonale è veramente molto importante. Grazie.